GF VIP7, un particolare movimento social Alfonso Signorini fa discutere il web. Nelle ultime ore si sta discutendo, principalmente su Twitter, di un gesto eloquente compiuto da Alfonso Signorini. Il direttore di Chi, conduttore del grande fratello VIP7, ha lasciato un like ad un video pubblicato dall'account Instagram delle reality show. Scatenando così la reazione del web. Il filmato in questione mostra il confronto avvenuto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, durante il quale il volto di Forum accusava la salernitana di fingere il suo dolore. Recentemente, infatti, la coppia sembrerebbe essersi allontanata a seguito della riconciliazione tra Edoardo e Oriana Marzoli. Dopo aver nominato la venezuelana durante la ventinovesima puntata del GF VIP7, il dippone le ha chiesto scusa, ammettendo di non aver pensato che Oriana dovesse affrontare un televoto così pericoloso. La Fiordelisi non ha visto di buon occhio il gesto di Donna Maria. A questo, si sono aggiunte le esternazioni da lui pronunciate durante il programma radiofonico del reality che il romano ha condotto proprio con Oriana, insieme a Luca Onestini e Nicole Murgia. Insomma, l'influencer campana non gradirebbe la vicinanza di Edoardo al gruppo che, come da lei sostenuto, non perderebbe occasione per provocarla e offenderla. In qualità di figura imparziale, Signorini non ha mai espresso il suo pensiero sui Donnalisi. Di rado, ha preso le parti di Antonella nelle dinamiche di coppia. Ebbene, ad oggi le cose sembrerebbero essere cambiate. Alfonso, mettendo like al video in questione, avrebbe implicitamente sostenuto il pensiero di Edoardo. Cioè che la Salernitana sia una falsa. O almeno, questo è ciò che sostengono gli internauti. Nella maggior parte, si dicono stupiti dal gesto del conduttore, che mai fino ad oggi ha manifestato un'opinione in merito ad un suo vippone. O meglio, come rilevato da alcuni utenti, lo avrebbe fatto in negativo solo nei confronti di Antonella e Nikita Pelezzon. Aimei, aimei, n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu sasar. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot să vă duc tot mai sus. Aimei, 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 n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu sasar. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot să vă duc tot mai sus.